buongiorno buongiorno ecco questa è la mia camera di stanotte come potete vedere si tratta di uno di quei luoghi all'interno nel quale le prime comunità paleocristiane si riunivano per creare momenti di socialità ecco potete notare la caratteristica volta a bot potete notare il pavimento paleocristiano poi un'uniformità di stili tra gli oggetti della mobilia molto interessante l'intarsio ligno che caratterizza la austera incubatrice di vestiti e il quadro dello zio dilettantesco invece intarsi ligni a gogò fino a scoprire questo preziosissimo oggetto di modernariato la radio per ascoltare i discorsi di questo non ci facciamo alle nostre spalle l'intarsio ligno che caratterizza il batti il poggia testa della zona letto e poi in conclusione ecco l'angolo del lavoro del lavoratore contemporaneo e poi il teatro delle ombre cinesi questo è il coccodrillo ecco e dalla camera di stanotte è tutto io vi saluto e vi auguro una buona giornata ciao